Scusate, di tossi. Ok, e Saroni? Scusate, di tossi. Scusate, di tossi. Giralo pure. Io? Sì. Ok, controllato. Mauro. 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 Scusate, di tossi. Scusate, di tossi. Scusate, di tossi. Grazie. 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 15 minuti signora, 15-20 minuti. Arrivo. Ivan Crespiani. Via. Deve tagliare il traguardo completamente e restare in pista. Noia. 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 Lo ha fatto per il pubblico. Lo ha fatto per il pubblico. Sì, va. Lo ha fatto perché sennò la gara dura già un po'. Di tossi. Ok. Sì. Ma io vi lo chiederà. Ok. Ma io vi lo chiederà, va. Amo dai. OK. Fatti. Una gara. Sì. Ok. Fatto? Fatto. Noi. Che fai allora. Che pate la mano. Che fai già qua. Che mi viene passata la rima sotto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.